Persino se gli impianti di illuminazione sono equipaggiati con l'ampida ed efficienza energetica, si dovrebbe usare il buon senso nell'usarle. Per preservare energia e ridurre le spese, le ditte dovrebbero adottare le seguenti pratiche. Evitare di accendere le luci esterne quando c'è sufficiente luce. Spegnere tutte le luci decorative, ove possibile, quando c'è poca attività. Assicurarsi che tutte le luci di sicurezza accese per lungo tempo siano equipaggiate con lampade ed efficienza energetica, come le lampade fluorescenti per applicazioni interne e lampade all'alta pressione al sodio per applicazioni esterne. Mantenere le luci interne spente quando c'è sufficiente luce del giorno. E spegnere le luci in tutte le aree non occupate. Il funzionamento degli impianti di illuminazione può essere controllato manualmente dal personale. Affinché ciò sia efficace, il personale deve essere correttamente formato, motivato e consapevole della necessità di conservare energia. Ci sono anche molti strumenti che aiutano ad automatizzare il controllo degli impianti di illuminazione. Questi includono cellule fotoelettriche che accendono le luci solo quando la luce ambiente non è sufficiente, sensori di occupazione che accendono le luci solo quando qualcuno entra nell'area, timer programmabili che possono essere aggiustati per accendere e spegnere le luci quando necessario durante il giorno, e interattore a tempo che lasciano le luci accese per un certo periodo di tempo dopo che sono state attivate.